Alle prossime elezioni politiche è importante votare per SEL, per tre ragioni, perché è un partito che ha una visione ideale, è un'idea di società, perché è una forza politica che ha risposte concrete ai temi fondamentali dell'agenda politica e perché è rappresentata da persone che fanno politica per spirito di servizio. Abbiamo una visione ideale, pensiamo che il centro-sinistra debba essere in profonda discontinuità con le politiche del passato, crediamo in una società più giusta, questa non ci appartiene, i nostri valori sono differenti, però abbiamo anche risposte concrete ai temi fondamentali, dal lavoro alla scuola al fisco, al welfare, all'ambiente. Pensiamo di avere un'agenda politica che può migliorare e cambiare profondamente il Paese. Del resto questi anni di politica liberista hanno mostrato tutti i loro limiti, non hanno garantito occupazione, hanno aumentato la povertà. Il modello di sviluppo è chiaramente in crisi. Infine siamo una forza politica che fa della moralità e dell'etica uno dei suoi tratti fondamentali. Di SEL ci si può fidare, dei candidati di SEL ci si può fidare. Il nostro partito è fatto in larghissima parte da persone che vivono la politica con spirito di servizio e come forma di volontariato per migliorare la nostra società. SEL può dare un contributo decisivo al centro-sinistra perché il centro-sinistra sia anche diverso dalle precedenti esperienze di governo. Un voto a SEL è un voto per cambiare l'Italia.